L'amministrazione di solito come norma conclude dicendo quella che è la posizione politica su un tema, dicendo quella che è la intenzione amministrativa e faccio una direzione. Ciao, ciao. Ciao. C'è un consiglio comunale per che dà la possibilità ai cittadini presenti di intervenire, di dire forse in maniera più chiara di come lo avete. Sì, consigliera Cunzolo, dopo che è stata in silenzio tutti, faccia parlare. Consigliera Cunzolo, lei ci ha parlato.